ribaltare la situazione qui provo, una rovesciata incredibile Orlando gol ovrare azione ma soprattutto di cercare un gol per il pareggio qui fa tutto da solo in area di rigore sono dentro Rilacros poi c'è il colpo di testa la palla che finisce in rete segna Lilva Maddalena con il gol messo a segno da Chiappetta per il vantaggio di Lilva tutti in mezzo Galdean mette il pallone con la deviazione la palla che finisce in rete per il pareggio da parte della Palmese per un'eventuale promozione in Serie C attenzione all'errore della difesa dell'Atletico Uri mancò sua porta vuota il salvataggio poi Nurchi Nurchi blocca la partita il costo orientale Sarda sull'errore dell'Atletico Uri punisce il capitano Sergio Nurchi e 1-0 manca lascia sfilare il pallone come se non ci fosse Loro da quelle parti poi palla dentro è buona per il tiro al volo di Luigi Scani parità a Sertegna con il gol di Scani per l'Atletico Uri 1-1 al 27esimo minuto Fada va lungo con le mani attenzione al colpo di testa di Zanoni che rischia di favorire Aloia cerca la sponda di Paolo di Paolo Murato ancora il tiro al gol di Lorenzo Loru ribalta la sfida l'Atletico Uri con il tiro di Loru l'Atletico Uri 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 l'Atletico Uri